L'Italia io penso debba reagire a quanto sta accadendo perché stiamo pagando un prezzo alto. Questo governo sta producendo un costo dell'odio che si sta dimostrando paralisi per il nostro paese. Nuove tasse, meno lavoro e abbiamo alle nostre spalle giornate di pura propaganda dove tra selfie, foto, battute sulle piste di sci si sono dette tante cose ma si sta nascondendo il paese reale. È un paese preoccupato perché il lavoro diminuisce, perché i cantieri sono chiusi e non riaprono, perché il lavoro non cresce, perché si sta diffondendo dal nord al sud un clima di intolleranza e di odio che colpisce tutti. Una volta l'immigrato, una volta una donna, l'altra volta un attacco ai magistrati, l'altra volta l'attacco al Parlamento oppure a un imprenditore, a un'imprenditrice. Molti si stanno chiedendo cosa fare, Piazza Grande in parte è la risposta. Sono ormai circa 500 comitati di mobilitazione che sì, sono impegnati per il congresso del Partito Democratico ma sono soprattutto impegnati per indicare all'Italia un'altra via possibile perché il governo giallo-verde è fondato su un patto che si chiamava contratto ma che invece di costruire sta producendo macerie. Forse l'unica cosa vera che stanno facendo è questo amore per le ruspe ma le ruspe producono macerie e noi invece dobbiamo costruire un'Italia più credibile. Lo so che è difficile ma è proprio ora il tempo della passione e del coraggio per costruire un'altra via per questo Paese. E questo lo può fare solamente. Un nuovo PD è una nuova alleanza che dobbiamo costruire. e io penso di voler poter interpretare insieme a tanti altri questo nuovo Partito Democratico e questa nuova alleanza che ora va ricostruita con tanta umiltà ma anche molta determinazione.